quali sono le migliori esche emotive per coinvolgere gli uomini questo video per rispondere a sarah che mi segue su youtube e ne ho già risposta uno ma in via eccezionale rispondiamo anche a secondo e quindi che quali sono allora se un uomo interessato a te da un punto di vista puramente sessuale cioè se ti cerca per fare sesso ma poi non non ti cerca per altro quindi fa gli affari suoi magari vede anche altre donne con te magari freddo e diciamo non vuole condividere la sua vita si vede significa che tu non hai seminato le esche giuste a quei sono queste esche famose esche emotive che si devono seminare sono delle polpette avvelenate che finora ti sei mangiato tu e che dovrei dovresti iniziare a somministrare all'altra persona perché dico che te le sei mangiate tu perché ad esempio tu se hai accettato di questo vincolo del fatto che lui viene diciamo sfoga svuota diciamo le sue parti basse e poi di fatto non fa nulla con te di altro vuol dire che tu hai accettato un bel vincolo nei suoi confronti e ti sei mangiata una polpetta avvelenata ecco che cos'è un'esca è quella che ti stai mangiando tu fondamentalmente è un vincolo che lui ti pone e ha una condizione che tu accetti e perché l'accetti perché questo questa frustrazione fa sì che ne stiamo parlando qui adesso e quindi diventa un tuo pensiero un tuo pensiero che ti autogenera emotività fondamentalmente quindi bisogna invertire la situazione devi essere tu a generare delle polpette avvelenate a lui una polpetta avvelenata che si può generare quella del desiderio bloccando il possesso ma non soltanto questo facendo sì che questo desiderio blocca che questo possesso bloccato che quindi amplifica il desiderio cioè ad esempio quando lui ti cercherà non sarai più disponibile dicendogli che sarai disponibile per un altro però facendogli intendere ovviamente il film deve farselo lui perché in questo modo diciamo resta cornuto e mazziato tra virgolette nel senso che inizierai tu a porre dei vincoli a lui e lui dovrà che ne so offritti delle cene al ristorante che tu dovrai scroccare mangiando le cose più costose dicendo che fanno schifo lasciando le mezze nel piatto e poi non dandogliela dopo certo che e questa sarebbe un'esca una polpetta avvelenata certo che questa polpetta avvelenata devi fargliela ingoiare e per fargliela ingoiare lui deve avere una buona motivazione non è che di colpo a uno gli dici senti se vuoi devi scalare l'everest oppure ciccia perché questo magari non lo scala quindi devi arrivare gradualmente lì e la via migliore per arrivarci è in questo caso trovare inizialmente delle scuse in modo tale che lui si faccia il film che forse ci può essere un'altra persona nella tua vita poi lasci qualche indizio qualcuno che magari ti invita a pranzo qualcosa del genere ti invita a cena ti pigli dei fiori insomma in modo tale che lui si renda conto e tu inizialmente gli trovi solo delle scuse logico e razionali per non vederle poi nel momento in cui lui insiste se inizia a farti una specie di terzo grado allora inizia a dire beh sì ho conosciuto uno sai ma mi hai invitato solo a cena però adesso andiamo solo a cena è uno che mi porta spesso fuori così ma mi porterà anche un weekend ma no io non ci faccio mica nulla no e mentre dici non ci faccio mica nulla guardi dall'altra parte abbassi gli occhi in modo tale che la sua parte emotiva capisca non tanto la sua parte logica che gli stai pure raccontando una balla e in questo modo darei uno scossone ma devi avere la forza di farlo altrimenti le polpette avvelenate te le mangi solo tu fondamentalmente bene per questo video è tutto se vi iscrivete iscriverete al canale avrete la possibilità come sarà di fare una domanda e riceverete un video di risposte inoltre condividete questo video sui social facebook twitter e altro basta che sotto il video lì sotto vedete c'è un'iconcina condividi cliccate di sopra e lo condividete sui vostri social ciao ciao